È stato un pomeriggio all'insegna della solidarietà, quello ospitato a Pescara dall'Istituto Acustico Maico ed organizzato dall'Associazione Adricesta Onlus in collaborazione con il Kivanis Club. Un aperitivo con l'attore e regista Alessandro Preziosi, storico testimonial di Adricesta, l'associazione fondata 15 anni fa da Carla Panzino, il quale nonostante la febbre non ha voluto far mancare il suo sostegno ed è stato accolto con entusiasmo dalle numerose socie del Kivanis Club di Pescara, presieduto da Mariella De Santo e rappresentanti di altri club service dell'area metropolitana Pescara Chieti, che hanno molto apprezzato anche il gustoso aperitivo preparato da Gianmarco Panzino e Matteo Falcone della prosciutteria Firenze di Pescara. Alessandro Preziosi, in città anche per portare in scena lo spettacolo Vincent van Gogh, L'odore assordante del bianco ha ricordato l'importanza dei progetti avviati da Adricesta in favore dei bambini ricoverati in diversi ospedali italiani. L'avvenimento ha suggellato la nuova partnership con l'Istituto Acustico Maico, fondato da Serafino Menzietti, che insieme al figlio Mauro ha promosso campagne di sensibilizzazione sui problemi dell'udito Nonno Ascoltami, ottenendo riconoscimenti a livello internazionale, come ha evidenziato il responsabile marketing e comunicazione Nicola Candeloro. La presidente Panzino ha ringraziato tutte le persone presenti, tra le quali c'erano anche il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, con il quale Adricesta ha organizzato già da tre anni l'evento Festa degli Auguri e l'Arma dei Carabinieri, con cui da 16 anni Adricesta porta in corsia militari vestiti da Babbo Natale, rappresentata dal comandante della Legione Carabinieri d'Abruzzo e Molise, il generale Carlo Cerrina, dal comandante provinciale di Pescara, il colonnello Marco Riscaldati, e dal comandante della Compagnia di Pescara, il capitano Antonio Di Mauro. Un brindisi per cercare di anticipare la grande festa di 15 anni dell'Associazione, ma soprattutto un momento per stare insieme, per parlare dei progetti della ricesta. Per noi è molto importante l'accoglienza ospedaliera, e quindi principalmente quella pediatrica, ma anche per gli adulti, vogliamo sempre portare avanti il nostro pensiero, che è quello di migliorare l'accoglienza, migliorare le strutture ospedaliere, e anche la diagnostica attraverso l'acquisto di attrezzature.